Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Calenzano provenendo da Firenze per traffico intenso. Sempre in A1 rallentamenti verso nord per perdita di carico in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandici. In A11 coda a tratti verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Arriviamo in Fipili per veicolo fermo in avaria a coda di 2 km con tendenza all'aumento tra Montopoli-Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. Troviamo inoltre coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze per viabilità esterna che non riceve. In Fipili segnaliamo inoltre la chiusura dell'uscita di Livorno-Aurelia provenendo da Livorno per lavori fino alle 18 di questo pomeriggio. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze tra i lavori e il via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in Viale Etruria e quelli di manutenzione di Pozzetti in Viale Mariti e Viale Redi. Buon versine Toscana Info, servizio in collaborazione con il Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.